Sono indecente, senza precedenti, sono cinque giorni che non abbiamo votato nemmeno un emendamento. Leggiamo sui giornali, in televisione, numeri, emendamenti, ma il Parlamento non ha visto nulla. Il Governo si degni di venire in Commissione Bilancio e in Parlamento a dirci a che punto è questo infinito confronto con l'Europa. Noi non andiamo avanti a discutere le leggi di bilancio se prima il Governo non viene in Commissione, ma non c'è nessun maxi emendamento. Ma qui galleggiano numeri, galleggiano emendamenti, ma non c'è depositato nessun maxi emendamento del Governo. E se il Governo depositerà prima o poi un maxi emendamento, deve accompagnarlo con una relazione di cambiamento della Nadef. Perché non basta un emendamento a stravolgere una manovra come vogliono fare loro. Non si è presentato nessun esponente, nessun Ministro, nonostante le richieste dell'opposizione. Adesso c'è aula alle 17, lo sapevano, perché il calendario è noto a tutti, ma evidentemente la Commissione, Bilancio e Parlamento vengono in secondo piano rispetto a tante altre cose. C'è stata conferenza dei capigruppo in aula, protesteremo con ancora più forza di quanto stiamo facendo, perché la situazione è diventata inaccettabile, non ha precedenti e quello che sta accadendo è veramente vergognoso. Noi siamo tornati a chiedere che il Ministro Tria venga in Commissione, per il momento non abbiamo risposte. Non ci sono notizie, nessun tipo di notizia. Quale è il momento che deve arrivare in serata? Desaparecido? Quale? Quale maximamente e quali manovre?